Ti hanno fregato l'ammiraglia? Ma si può sapere come hai fatto, pezzo di idiota? Eh, c'è stato un qui per l'acqua, cioè un lì per lì. Io sono rimasto qui e la macchina è data di là. È stato un qui per là. Ma vai a cagare! Ma come l'altra volta...